ben benvenuti per questo nuovo livello di minecraft ci siamo lasciati dopo aver fatto la piscina ok vedete che metto i ciao tu fai la linea vabbè poi ne faccio anche una bucca ah giusto 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 pane perfetto a giusto mettiamo via le varie robe porta chiuse bene ah perfetto sono ritornato il giocatore anzi no proprio vabbè 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 mi sta facendo il mazzo perfetto grazie per la freccia vabbè 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 posso cercare di uccidere vedo come che esploda prendendogli la tnt a vabbè 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 provatemi a raggiungere da qua buonanotte vabbè 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 che c'è che bussa vabbè 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 vado a prendere un po' di ghiaia vabbè prodice del carbone vabbè 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 Perfetto. 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 ok anzi no partiamo buttiamo via la terra prendi affatti potrei fare dovrei potermi fare anche l'arco ah no aspetta forse era così non mi ricordo come si fa il no mi sono finite le idee di dove andare il nostro corso il nostro corso va bene perfetto questo è il che Alla prossima. Ok andiamo in questa gotta, è il mummy, una spada! Ok. No, dov'è? Eccolo Andiamo a esplorare qua. Pecore, uno, due e tre. Va cacchio! Sono nella cacca. Corri, 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 corri. Corri per la tua maledetissima vita. Presto, 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 presto. Torniamo nella nostra casa. Creeper! Perfetto, grazie, dammi la tua pivre da sparo. Perfetto, grazie. Proviamo a mettere alla prova il pane. Perfetto. Forse ce l'ha in alto la pietra. Perfetto. 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 Grazie a tutti. Grazie. Però in effetti posso fare una cosa. Andare verso un altro mondo. 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 Out. Ma finisce l'altro livello di Minecraft. Grazie a tutti. Andare verso un altro mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.